Buongiorno, allora lunedì 13 marzo, sono le 3 e 12 minuti e sto partendo, iniziamo questa settimana insieme, la mattina partenza un po' prima del solito, il lunedì 4 e mezza, 4, 5, dipende, stamattina alle 3, perché devo riuscire a fare almeno due scarichi entro mezzogiorno. Adesso ci mettiamo in marcia e poi vi racconto il programma della giornata. Allora oggi ho tre consegne a salire, devo fare prima la consegna a Rodengo Sagiano, provincia di Rescia, poi devo scendere zona Verona a Villa Fontana e per concludere a Villa del Comante della provincia di Padova. Le prime due le devo scaricare entro mezzogiorno, più che altro quello della Villa Fontana devo scaricare entro mezzogiorno. E quindi stamattina ci è toccata dell'alzadaccia. Va bene dai, ora autostrada. Stamattina la pausa credo che la farò oltre Bologna, in modo da avere più tempo di guida una volta ripartito, perché dopo arriva a Rodengo Sagiano, scaricata e aveva abbastanza guida da Rodengo Sagiano per arrivare anche a fare la seconda consegna senza dovermi fermare a fare un'altra pausa. Allora, cambio del programma. Mi sono fermata la P.O.P., come se non ci sono sempre, perché devo andare al bagno. E niente dai, tanto visto che da qui arrivo a Rodengo Sagiano due ore e venti, quindi mi resta abbastanza tempo dopo. Allora, devo andare a fare un'altra pausa. Grazie per la visione Grazie per la visione Un bel budino proteico e passa la paura Grazie per la visione 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 Sendo che stanno movimentando la merce e nel frattempo e mi mangio un'arancia e la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione e niente Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti